Fu punito atrocemente. Pietro Abelardo, 1079-1142, filosofo, teologo e compositore francese, precursore della scolastica, ebbe una vita di potente amatore e una brillante carriera di maestro. La forza della sua mente non lo protesse dinanzi a una sua discepola, Eloisa, che come lui stesso dice, non ultima per bellezza superava tutte per la sua profonda cultura. Abelardo concluse la sua vita di amatore col matrimonio segreto, ma fu punito atrocemente dallo zio di Eloisa, che lo fece virare. Perché? Commento. Perché Abelardo doveva sentire Eloisa prima come amante e poi come sorella. Grazie. 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 Grazie.